34 vigili del fuoco, angeli del soccorso, la forza del nostro paese provenienti da tutti i comandi del Veneto sono partiti all'alba per Genova. Sono i componenti della squadra, la HUSAR Urban Search and Rescue, la squadra di ricerca e soccorso che da oggi si alterna alla squadra della Lombardia e continuerà la ricerca dell'ultimo disperso, rimasto sotto le tonnellate di cemento che hanno travolto ed ucciso 43 persone. Con loro anche due cani, con gli amici a quattro zampe indispensabili in queste catastrofi. Il loro affiuto è sempre determinante per indicare i punti dove la mano umana poi scava e trova vite ancora in vita. E per fortuna, anche sotto il ponte Morandi, di fronte a tanta morte, qualcuno è riuscito a rivedere la luce, grazie al coraggio di altri uomini di quei soccorritori addestrati appositamente al salvataggio, esperti che non perdono mai l'umanità, pronti a spendersi fino all'ultima forza che hanno in corpo per gli altri. Il contingente a Veneto è partito dalla sede di Mestre con mezzi e strumenti ad altissima tecnologia. Ai vigili del fuoco, ai soccorritori, alla vera speranza del nostro paese, persone capaci di lanciare il cuore oltre all'ostacolo senza mai esitare, infinite gli applausi durante l'esequie in fiera a Genova.